Dalla zona del bersaglio di Luserna a San Giovanni si sta correndo in questo momento la gara Juniors di questa quinta riedizione del Cross di Luserna e se oggi siamo qui, anzi soprattutto per merito di questo signore, Renato Agli, ideatore, direttore tecnico innanzitutto, ma ideatore di queste riedizioni che dal 2019 tornano a rianimare Luserna, allora Renato benvenuto ai nostri microfoni. Grazie a voi, siete molto gentili, siamo di nuovo qua, con tanto lavoro abbiamo battagliato molto perché purtroppo le risorse sono sempre di meno però abbiamo cercato di portare degli atleti di altissimo livello che vedrete nella prossima gara e spero che sia un diventimento per tutti. Ecco, le risorse sono sempre poche ma c'è una risorsa che non manca mai, che è quella della passione, che forse credo che sia quella che ha permesso a te di riproporre questo evento. Per me è stata una scommessa nel 2019 di riportare il Cross di Luserna ma erano anni che ci pensavo e poi devo dire grazie all'aiuto dell'Atletica Valpellice non ce l'avrei fatta ed è all'amministrazione comunale sicuramente, devo dire grazie molto a loro. Ecco, un Cross di Luserna che leggevo è stato nel passato forse il quarto Cross a livello nazionale, poi c'è stato un lento declino fino poi alla scomparsa nella seconda metà degli anni 90. Possiamo però ripercorrere un po' le fasi più gloriose di questo Cross che negli anni aveva proposto atleti di altissimo livello e insomma immagino che l'obiettivo sia gradualmente tornare ai passi di quei tempi. Io penso che quest'anno come livello sia superiore a quegli anni lì, come livello quest'anno. È iniziato nel 1975 dove l'atleta più forte presente era Arese che ha appena vinto i campionati europei, poi ha vinto nell'80-81 un atleta che ha vinto gli europei, in questo momento non mi scugge il nome, e poi ma soprattutto ha vinto Panetta che è stato campione del mondo e Roberta Brunet che ha vinto la medaglia d'argento ai giochi olimpici di Los Angeles. Ecco, una risposta anche da parte del pubblico, mi sembra abbastanza interessante, un sport che forse non gode della visibilità a livello mediatico di altre discipline ma insomma il pubblico di oggi ci dimostra che c'è un seguito. Sì, ora in questo momento il pubblico è spostato al centro del percorso dove si vede tutto, però dico che quest'anno c'è parecchia gente, veramente, sono molto soddisfatto di tutto. Abbiamo lavorato tanto ma comunque il lavoro ha portato i suoi frutti. Ecco, accennavi anche nel corso della conferenza stampa di presentazione di questa quinta riedizione che è l'obiettivo per il prossimo anno, perché si sa, ecco, chi organizza queste cose quando si arriva al momento dell'evento è già proiettato avanti nel futuro e l'idea è quella di far diventare il cross di Luzerna, cross internazionale. Sappiamo che insomma la possibilità di avere questo titolo è legato alla qualità degli atleti che si riescono a portare, ma allora la domanda è quali sono le strategie, i modi per riuscire a organizzare un cross internazionale? Organizzare un cross internazionale prima di tutto bisogna portare degli atleti che hanno un ranking di altissimo livello, per cui sarà molto difficile. Ma oggi mi è stato chiesto dalla consigliera federale addirittura di organizzare il campionato italiano, perché qui come location sarebbe molto valida, abbiamo solo un problema purtroppo, che non abbiamo alberghi. E quindi insomma questo è un inquisito sull'aspetto turistico ricettivo che potremo tra poco... Esatto, esatto. Potremmo porre proprio al sindaco di Luzerna che avremo qui ospite, che insomma hai parlato della collaborazione dell'amministrazione comunale assolutamente fondamentale, quindi anche questo è un aspetto che va in qualche modo incentivato. Un'ultima domanda, ti chiedo ecco un po' le caratteristiche e le problematiche, perché poi uno quando arriva qui al ridosso della gara c'è sempre qualche cosa da aggiustare all'ultimo e qualche problema da risolvere. È andato tutto liscio, quali sono... raccontaci un po' cosa significa concretamente organizzare un evento di questo genere. Organizzare un evento di questo genere, tutto bisogna avere persone che ti diamo la mano, perché noi è da martedì che siamo qui a piantare i picchetti, a mettere fettucce, però fortunatamente il tempo è stato, a parte il freddo giustamente, ma siamo a gennaio, se non fa freddo a gennaio, l'inverno non lo fa più. Io dico che comunque tutto sommato è andato tutto a meraviglia, ecco. Grazie ai collaboratori che sono stati veramente tanti. Ultimissima domanda, si è conclusa da poco la gara femminile, una gara anche spettacolare perché hai visto Valeria Ruffino in rimonta sull'atleta keniana che aveva condotto per la prima metà di gara e poi un bel recupero, un commento da uno che, insomma, di questa disciplina se ne intende, un commento tecnico su questa vittoria. A parte tu sono atleta che io gestisco. La keniana era il suo primo cross in Italia, non aveva mai fatto nessun cross, perché è un atleta che lei soprattutto fa gare su strada. Valeria Ruffino arriva da una stagione di cross di buon livello, ha rischiato di entrare in nazionale per gli europei di Bruxelles, non ce l'ha fatta per poco. È un atleta che comunque ha fatto cinque nazionali, ha avuto 22 titoli italiani, per cui è un atleta che ha un palmareste di tutto rispetto. Possiamo dire che l'esperienza in questo caso ha fatto la differenza. Sicuramente, sicuramente. Benissimo, noi ringraziamo Renato Agli, che immagino abbia molto da fare in questa fase, tra premiazioni e insomma seguire naturalmente la buona riuscita dell'evento. Un grazie e a questo punto insomma speriamo un arrivederci al prossimo anno per un cross internazionale. Grazie mille a voi, grazie di tutto. Linea alla regia, un po' di musica e poi saremo qui con il sindaco di Luzerna San Giovanni, Duiglio Canale, a tra poco.